Ciao ragazzi, oggi siamo ragazzi in un nuovo video dove ragazzi mi scuso se ieri non ho potuto fare il video e mi scuso quindi ragazzi, siccome sto studiando la ricetta diretta, non posso registrare la fanart, la fanart, la fanart, la domanda è che mi hanno inviato la fanart che però non devo arrivare quindi no 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 oddio siamo all'ottava gatto Formula 1 campionato della figlia poi ci ho giocato con un unico mi ha battuto a pezzo è più forte del nostro che dire che dire la prima partita l'ho portata 13 l'altra questo non mi ricordo è 8 a 8 a 6 2 ragazzi scusate che ho conosciuto lì scusate che ho conosciuto lì scusate che ho conosciuto lì ragazzi in groma ragazzi direi che ho conosciuto lì che ho conosciuto lì che ho conosciuto lì